Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale si intorbiliscono ancora più le acque sembra un gioco di parole ma è la realtà piuttosto dura per la vicenda della gestione del servizio idrico integrato nei dieci comuni che hanno consegnato i loro impianti alla 6-8 anche Aqualia intanto nella notte si tira indietro. Colpo di scena per quanto attiene la gestione del servizio idrico quando tutto sembrava essere stato risolto con la requisizione degli impianti da parte del prefetto Gradone e l'affidamento degli stessi alla società spagnola di Aqualia giudicatare dell'asta per l'affitto del ramo d'azienda della 6-8 ecco che nella notte si consuma un atto inatteso. La dirigenza di Aqualia riunita ad urgenza ha fatto prevenire al prefetto di Siracusa una breve nota con la quale ha deciso di ritirarsi fuori dalla questione. Non si comprendono al momento i motivi che hanno spinto la società privata a fare un passo indietro ma è probabile che non accettino l'affidamento degli impianti per un periodo determinato e circoscritto ad un anno. Infatti è questa l'ipotesi che era maturata nella tarda serata di ieri quando a seguito del continuo dibattere è non riuscire a trovare una soluzione condivisa fra i responsabili dei 10 comuni siracusani interessati al riottenimento degli impianti idrici della 6-8 il prefetto Gradone aveva deciso di requisire tutti gli impianti per dare seguito al responso della gara per l'affitto del ramo d'azienda. Al momento in prefettura continuano ad esserci incontri e riunioni per derimere la matassa. Le varie ipotesi sul tappeto che si cerca di vagliare per avviare ad una buona nuova ipotesi. È probabile che nel primo poveriggio si abbiano delle concrete novità. Nel frattempo i 150 dipendenti della 6-8 che ieri sera avevano tirato un sospiro di sollievo sono tornati nelle ambasce. Peraltro non potranno sostare davanti alla prefettura come fatto fino a ieri sera perché siamo in pieno periodo elettorale. La prefettura funge da principale catalizzatore per tutte le incombenze relative alle fasi del voto. E qui si parla del futuro di oltre 150 lavoratori. I non erano presenti questa mattina come ieri hanno protestato con i loro camioncini in piazza Archimede. Questa mattina soltanto uno sparuto gruppetto per la legge elettorale. In questo momento non si può fare una manifestazione lì sotto la prefettura. Però erano lì e c'era anche il sindacato. Vicenda 6-8. Ieri giornata piuttosto calda. Sembramento intorno alla fontana sotto la prefettura dei lavoratori. 150 che temono per il loro posto di lavoro. Nel pomeriggio di ieri una presa di posizione del prefetto che avrebbe preso i impianti dati a lato. Adesso c'è una nuova rivoluzione. C'è qualcosa che non va? Noi siamo andati via ieri sera con una soluzione che era abbastanza soddisfacente per quanto riguarda le questioni poste dal sindacato. Che erano quelle della salvaguardia a livello occupazionale e di garantire un servizio a tutti i cittadini e alle popolazioni. Se non che questa proposta del prefetto nel corso della nottata è successo qualcosa in quanto non si è concretizzata la proposta del prefetto in quanto la società privata che doveva acquisire e gestire gli impianti si è tirata indietro. Noi riteniamo a questo punto che va ricercata un'altra soluzione. Sempre che tenga conto delle questioni che il cattoposto. Credo che ci siano le condizioni, le possibilità perché si possa trovare una gestione che quando meno mette nelle condizioni ai comuni di attrezzarsi e poi dare una risposta definitiva alla gestione dell'acqua nei comuni e dare una certezza e una garanzia per il livello occupazionale di tutti i lavoratori. Ancora ad acqua parliamo di lentini perché la quinta commissione ha concluso i lavori di rilancio per la pubblicizzazione dell'acqua. L'amministrazione comunale è quella che dovrà chiedere alla curateva parlamentare se vorrà di riprendersi gli impianti. Noi possiamo essere solo da stimolo, da input, possiamo sollecitare e lo stiamo facendo con questa azione eclatante stasera proprio per mettere alle strette il nostro sindaco a riprendersi gli impianti idrici. Volevo sottolineare che questa problematica è una problematica che non ha nessun colore politico e questo lo dimostra il fatto che il documento è stato firmato da 14 consiglieri comunali, gran parte dell'opposizione ma altrettanti di questa maggioranza che chiedono con forza al sindaco che loro stessi hanno sostenuto e che sostengono che l'acqua ritorni ad essere pubblica. Noi come cittadinanza attiva saremo in questa battaglia come sempre faremo la nostra parte finché non si otterrà in questo caso non si otterrà veramente un successo perché chi ha le responsabilità se le deve assumere. Non riusciamo a capire per quale motivo il sindaco si sia preso la briga personale perché è soltanto una decisione sua personale di mantenere il servizio idrico lentinese privato ad una ditta spagnola. Noi faremo di tutto affinché l'acqua lentinese ritorni ai lentinesi. Ma dico io ma dove cavolo vivono? Solo io mi incazzo a vedere come è ridotta la mia città. Se voi avete un'onestà morale ne sono sicura. Se lui non consegna, non richiede gli impianti voi avete il dovere morale, dovere nei confronti della cittadinanza che vi ha votati di sfiduciarlo perché non potete sostenerlo. Non potete sostenerlo. Non ci sono giustificazioni per non richiedere la consegna degli impianti. Giustificazione non ce n'è. Però lasciateci la curiosità eventualmente di sentirle perché ci sono i pareri tecnici io credo di qualche funzionario di questo comune che dovrà venire qua dentro in questa tavola e spiegare a noi e a voi perché non vuole che si richiedano gli impianti. Ce lo deve dire. Avete diritto voi e abbiamo diritto noi. Tasse ma anche inquinamento ma anche il contatto che è necessario prendere e stringere con la Danimarca per quanto riguarda Villa Reiman sono alcuni degli argomenti affrontati dalla consigliera Cetti Vinci. Vi faccio vedere uno stralcio dell'intervista che poi andrà dopo il Tg nella rubrica. Punto a capo. In questo momento ambiente perché come tu ben sai purtroppo il problema dell'inquinamento sta diventando un problema che allerta i cittadini perché questi cattivi odori, questi fumi sono in effetti un danno per noi che respiriamo quest'aria. Una cosa importantissima che ti devo dire che ho appreso perché sono venuti diversi soggetti che si occupano dell'ambiente, quindi sia l'ARPA, l'Egambiente, il dottore Madeldo per quanto riguarda l'ASP, Francesco Italia. Ho saputo che anche lì Siracusa fa parte della conferenza dei servizi, anche Siracusa parteciperà al tavolo tecnico. Quello che io ho proposto all'amministrazione quando ci ha dato questa notizia che è veramente importante, perché Siracusa nonostante soffre dell'inquinamento della zona industriale in effetti non ha avuto mai posto alla conferenza dei servizi. Oggi anche Siracusa può avere la sua posizione, può fare delle pretese ad alta voce e fra le pretese importanti che ci dovrebbero essere è quella di investire le stesse imprese industriali nella possibilità di bonifiche, di migliorare la qualità sia dell'aria che dell'acqua. Dieci anni di reclusione, quanto dovrà scontare Francesco Mikalev che al culmine di una lite dello scorso anno uccise il 19enne siracusano Eugenio Corallo. Si è concluso con la condanna a dieci anni di reclusione il processo scaturito alla morte del 19enne siracusano Eugenio Corallo, avvenuto il 24 aprile dello scorso anno al culmine di un litigio. È stato il gruppo del Tribunale Vincenzo Panebianco a condannare Francesco Mikalev a conclusione del processo che si è celebrato con il rito abbreviato. Il giudice ha accolto appieno le richieste del PM Claudio Dalitto applicando all'imputato anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il riconoscimento dei danni alle parti civili costituite dalle sorelle e dalla madre della vittima. Il difensore di Mikalev, Eugenio Celesti, a conclusione della sua ringa aveva chiesto la derubricazione del reato da omicidio preterintenzionale aggravato a eccesso colposo di legittima difesa e per tale motivo aveva richiesto l'applicazione del minimo della pena. La vicenda, come si ricorderà, si è consumata alle palazzine Palano del Viale Tica a Siracusa. Per futili motivi, Mikalev e Corallo sono arrivati a contatto. Il litigio è avvenuto dinanzi ad altre persone e culminato con l'imputato che avrebbe sferrato un colpo di casco alla tempia della vittima che, crollata al suolo a priva di sensi, è stato poi soccorso agli amici e dallo stesso Mikalev è trasportato in ospedale dove rimane in agonia per diversi giorni prima di ispirare. La magistratura ha indagato il Mikalev nei confronti del quale non è stata applicata sulle prime alcune misure cautelare. Soltanto dopo il deposito dell'autopsia, eseguito dal medico legale Giuseppe Bulla, che stabiliva che la causa della morte del Corallo fosse avvenuta a causa di un corpo contundente, presumibilmente casco da motociclista, ha disposto l'arresto dell'imputato. Questi, pur ammettendo di aver avuto una colluttazione con la parte offesa, ha sempre negato di aver utilizzato il casco. Adesso c'è la pubblicità per qualche minuto, ma vi aspettiamo da tra poco. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature! Cromata? Ma chi? La ragazza? Ma vai, io parlavo della nuova Yaris! Oh, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Tarja, Siracusa. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca, ai prezzi più bassi della città. Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre, abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406-A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. In esclusiva nello store Scavolini Siracusa, la vostra casa tutta Scavolini in 20 rate a interessi zero. Scavolini Store Siracusa, in viale Scala Greca 381. Grazie a tutti. Ventilatore da soffitto 5 pale, euro 44,90. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino, presso il parco commerciale Belvedere. Ben trovati, secondo parte del nostro telegiornale. Sarà processato il sindaco di Melilli, Cannata, ma anche un funzionario dello stesso comune. Devono rispondere di omissione, datti d'ufficio. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Il sindaco di Melilli, Giuseppe Cannata, è un funzionario dell'ufficio tecnico comunale, sono stati rinviati a giudizio per il reato di omissione di atti d'ufficio. Il decreto che dispone il giudizio è stato emesso ieri mattina dal GIP del Tribunale, Vincenzo Panebianco, a carico del primo cittadino melillese, che è peraltro sospeso dalla carica pubblica per effetto della legge Severino e Salvatore Salafia, dirigente dell'ufficio urbanistica del comune melillese. Ad insistere perché l'amministratore pubblico e il dirigente comunale fossero processati, è stato il pubblico ministero Claudia Dalitto, che ha coordinato le indagini scaturite da una nota redatta dalla Polizia Ambientale del comune di Melilli il 27 febbraio dello scorso anno, con la quale si invitava il sindaco e il funzionario ad emettere provvedimenti nei confronti di due aziende, la Deter Klim, SRL e la Finetex, nei confronti delle quali sarebbe stata riscontrata la carenza dei requisiti igienico-sanitari di agibilità e per le autorizzazioni allo scarico. Entrambe le aziende avrebbero operato a ridosso del pozzo Cannizzo, che garantisce l'approvvigionamento idrico della frazione di città Giardino, o stesso in cui sono state successivamente riscontrate tracce di contaminazioni da materiale plastico, come hanno avuto modo di analizzare gli esperti dell'ARPA di Siracusa. Secondo quanto sostenuto dall'accusa, il sindaco Cannata e l'ingegnere Salafia avrebbero omesso di adottare il provvedimento di sospensione delle due attività produttive. Pretendeva dal proprietario di un pastore telesco il risarcimento dei danni materiali e morali riteneva causati al suo cane, però è stato arrestato dai carabinieri per estorsione. I carabinieri di Priolo Gargallo hanno arrestato nella fragranza di reato di estorsione Salvatore Bonnici, 60enne originario di Catania, per una vicenda che ha origine dal litigio fra due cani. Alcuni giorni addietro, infatti, un priolese stava portando a passeggio al guinzaglio il proprio cane, un pastore tedesco, e dall'incontro con il cane di piccola taglia dell'indagato, lasciato invece libero, ne è scaturita la classica zuffa tra animali, durante la quale sembra che il cane di taglia più grossa abbia morso quello più piccolo. L'intervento del proprietario del pastore tedesco è riuscito però a dividere gli animali, ma non a proteggersi all'aggressione fisica e verbale di Bonnici, che ha cominciato a prendere a calcio e a pugni cane padrone, lasciando contro quest'ultimo mattone forato, scansato dal destinatario. Passato quest'episodio è cominciata per la vittima una sequenza infinita di telefonate, con cui Bonnici richiedeva insistentemente con minacce, consistite nel prospettare danni all'attività e mezzi della vittima, l'esborso di una somma pari a 250 euro, altrimenti avrebbe fatto intervenire asserite amicizie negli ambienti catanesi. 250 euro, quale risarcimento per presunte spese sostenute da più veterinari. Il Bonnici pretendeva che i soldi venissero consegnati sotto forma di cinque assegni postdatati e in bianco di mille euro ciascuno. Oltre alle telefonate, vittime e l'estortore hanno avuto anche alcuni preliminari incontri sempre connotati da un clima di forte intimidazione, poiché la vittima si sarebbe dimostrata disponibile a ricomporre la questione facendosi carico delle spese mediche sostenute per la cura del cane, se queste fossero state opportunamente documentate a riprova dell'avvenuta prestazione di un medico veterinario. Quando le richieste si sono fatte più pressanti, l'uomo ha chiesto aiuto ai carabinieri di Priolo che si sono presentati insieme a lui al momento della consegna dei soldi e degli assegni e traendo così in arresto l'estortore che si trova adesso ai domiciliari. E ancora la cronaca, un uomo litiga con i genitori, poi minaccia di gettarsi nel vuoto e poi ancora appicca l'incendio all'abitazione. È accaduto a Lentini. Ha tenuto per l'intera giornata i familiari e i soccorritori con il fiato sospeso, ha anche appiccato l'incendio all'abitazione dei genitori, ha poi minacciato i lanciarsi nel vuoto e alla fine ha desistito facendosi accompagnare nella struttura sanitaria per essere curato. È accaduto a Lentini, in Via Trani, dove una persona con problemi psichici e di tossicodipendenza si è arrampicato sul cornicione del palazzo dopo aver litigato con i genitori. Alla base del litigio la continua e pressante richiesta di denaro per soddisfare le proprie esigenze quotidiane. I genitori che vivono di pensione si sono posti alla richiesta di concedergli 50 euro e a quel punto è scattata la reazione dell'uomo che ha minacciato i congiunti e poi si è asserragliato sul cornicione dell'edificio con l'intenzione di farla finita. Sul posto sono accorse le pattughe di caribinieri e polizia che hanno tentato in vano di convincere il malintenzionato a recedere dal proprio progetto insano. Nel corso della giornata per completare la vicenda l'uomo ha piccato il fuoco all'appartamento dei genitori. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero danneggiare in maniera irrimediabile l'abitazione. Soltanto a sera e dopo un'estenuante opera di convincimento l'uomo si è deciso a scendere dal cornicione e a consegnarsi agli operatori che lo hanno sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. La cronaca oltre 3.000 kg di rame stoccati in un deposito di Floridia scoperti e sequestrati dalla polizia. L'operazione rientra nell'ambito dell'Action Day si è svolto in diversi stati e l'Unione Europea dedicato proprio al tema della prevenzione e contrasto del furto dei metalli. Andiamo avanti. Ascoltiamo insieme adesso l'appello di un siracusano con disabilità motoria ha perso dei documenti che lui ritiene che sono sicuramente molto importanti sulla sua salute ma anche su altro e questo è il suo appello. Buongiorno a tutti, mi chiamo Rosario Modicano e purtroppo qualche giorno fa ho smarrito una carpetta con documenti importanti all'interno tra via Damone, via Ledica e Santuario in quella zona l'ho smarrito. Se qualcuno riesce a trovare questi documenti, questa carpetta li porti per favore ai vigili urbani o in quest'ora o ai carabinieri ci penseranno poi loro a farmela avere. Bene, con questo è tutto. Il nostro telegiornale si conclude qui noi vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti.